ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video io sono maria e oggi vedremo insieme queste due bellissime cover puro per iphone 16 pro max ma prima di iniziare vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale la cover light mag è particolarmente apprezzata per il suo design ultra sottile e leggero che mantiene lo spessore del dispositivo al minimo è ideale per chi non ama custodie ingombranti è compatibile con il sistema mag safe di apple permette quindi di utilizzare caricabatterie magnetici e accessori mag safe senza problemi la parte posteriore della custodia è dotata di un anello magnetico integrato che garantisce un aggancio sicuro e stabile durante la ricarica wireless la custodia è caratterizzata da un design semplice ed elegante con bordi arrotondati che si adattano perfettamente alla forma dell'iphone e quindi I pulsanti laterali sono facilmente accessibili grazie a tasti in silicone ben progettati che offrono una buona risposta al tocco. Inoltre le aperture per le porte e il modulo fotocamera sono perfettamente allineati. Il prezzo di listino di questa cover è di 29 euro e 95 centesimi. La cover light mag di puro è una scelta eccellente se desideri una custodia leggera elegante e compatibile con mag safe. Grazie per la visione! Il punto forte di questa custodia è l'uso della tecnologia D30, un materiale altamente resistente agli impatti. Il D30 è noto per assorbire e disperdere l'energia in caso di caduta, riducendo significativamente i danni al dispositivo. Questa tecnologia rende la custodia particolarmente indicata per proteggere l'iPhone da urti, graffi e cadute anche ad altezze moderate. Gli angoli sono rinforzati, offrendo una protezione extra in caso di caduta o impatto. I bordi rialzati proteggono anche lo schermo e la fotocamera. è compatibile con la tecnologia MagSafe, quindi anche con questa cover possiamo usare i caricabatterie wireless e gli accessori magnetici senza dover rimuovere la custodia. I tasti sono facili da premere. Il prezzo di acquisto di questa cover è di 39,95€. La cover Impact Clear D30 di puro per iPhone 16 Pro Max è una delle migliori opzioni per la protezione forte e duratura per il nostro iPhone. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste cover. Io come sempre vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione. Un saluto a tutti e noi ci rivediamo al prossimo video.